Saranno 21 le persone disoccupate che attualmente percepiscono il reddito di cittadinanza gestite dal Servizio Sociale del Comune di Teramo a rafforzare l'organico amministrativo del Palazzo di Giustizia Teramano. Una vera manna dal cielo per il Tribunale di Teramo che da anni soffre di una gravissima carenza di organico, soprattutto nelle cancellerie e nell'archivio. Il Presidente Carlo Calvarese ringrazia l'amministrazione comunale di Teramo per questa preziosa convenzione PUC, acronimo di Progetti Utili per la Collettività, e spende parole di elogio per i nuovi arrivati, capaci, diligenti e pieni di entusiasmo. L'arrivo di queste nuove persone aiuterà nella carenza di personale di cui soffre il Tribunale di Teramo? Aiuterà senz'altro, almeno nel breve periodo, ma anche più a lungo, perché i progetti del Ministero, cui concorsi sono stati da poco banditi, non sono di immediata praticabilità. Se pensiamo, ad esempio, che il servizio di raccolta degli atti dai fascicoli in archivio, spesso implica attese di circa un mese, mediamente, capiamo che è un tempo inaccettabile. Una delle principali utilizzazioni dei lavoratori PUC del Comune di Teramo, fornitici dal Comune di Teramo, sarà proprio quello di riordinare finalmente il servizio degli archivi, delle cancellerie. Sono, forse, agli occhi di chi è strane o all'amministrazione della giustizia, servizi di minore importanza, invece sono essenziali. Le domande complessive per il reddito di cittadinanza a Teramo sono 2.185. In parte sono gestite dal Centro per l'Impiego e si riferiscono ai disoccupati degli ultimi due anni. 869 afferiscono invece al servizio sociale e riguardano persone o nuclei familiari fuori dal lavoro da oltre due anni. Saranno questi ultimi ad essere progressivamente coinvolti nei PUC. Ma qual è il loro identikit? Abbiamo trovato persone con un grado di istruzione anche particolarmente elevato, persone laureate, anche qualche avvocato ad esempio, psicologi e comunque persone che hanno diploma e che non riescono a rientrare nel mondo del lavoro. Sono persone che, una fascia d'età, quella che abbiamo dedicato al Tribunale, tra i 25 e i 40 anni, persone che comunque hanno fatto precedentemente anche lavoro di ufficio, quindi comunque sono persone esperte e che sicuramente saranno un apporto importante per la gestione del Tribunale. Grazie. 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 Grazie.